Oggi iniziano gli Avengers Andiamo, vai Dove abita Ennio? Pronto Ennio? Chi sei? Sono Thor Thor, chi sei Thor? Thor, Thor con la... Thor, Thor, ma non ti conosco Sono Thor, il supereroe Non ti conosco, chi sei? Ascolta, mi ha contattato la Tony Stark Tony Stark Tony Stark è il mio capo Mi ha chiamato perché ti devo aiutare con la bolletta Con la bolletta della luce Ha ingrandito la casella della posta Ma perché devo ingrandire la casella? Hai ragione, hai ragione Ennio Ma adesso la bolletta arriverà altissima E grandissima diventerà Perché sta aumentando la corrente ovunque Quindi bisogna mettere una casella della posta gigantesca Tu calcola... Metti la doppia, metti la doppia, metti la doppia Tu calcola che la bolletta non sarà portata più dai postini Ma passerà direttamente Iron Man e te la metterà nella casa Io non c'è più il postino No, passerà Iron Man con Jarvin Iron Man! No, Iron Man! Iron Man! Iron Man! Iron Man! Iron Man! Grande che ci vuole la forza di un uomo d'acciaio Ciaio, ciaio, ciaio Ghiaccio! Porto! Porto! Mancato! Allora... Che direi che sono? Chi sono? Stark Industry Finanza... Che tipistri? Ma che cosa fanno? Che cosa fanno? Eh? Penta! Ascolta... Brutto, ma stanno! Allora... Penta! Ascoltami bene L'Enel ha passato tutta la corrente alla Stark Industry E allora cosa devo fare? Quindi adesso arriveranno bollette altissime Abbiamo visto la prossima bolletta della corrente Ma di quanto? Ma di quanto, brutta merda? Sei sicuro di saperlo? Eh? No, no, lo fate, te lo chiedo Bastardo! Allora, la prossima bolletta che attiverà saranno di 3.800 euro 3.800 euro? Culo, brutta merda! Non la faccio io, la corrente Vai a cagare! Non la faccio io, la corrente Ascolta... Ma di dove chiami? Sono il figlio, sono il figlio di Odino Hai chiamato Egno con la dottia? Agnevro, brutta la merda! Lo so, Egno, Egno Lo so, sono... Ascoltami, ascoltami Ascoltami Sono, sono Thor, figlio di Odino Allora, sentimi bene Odino? Odino, Odino, sì Odino, qua del campo, Odino! Sì, del campo lì vicino No, 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 no Ma del sapore vicino, non è odino Sì, sono io, sono io Sono il figlio Ascoltami bene Eh, ma perché adesso lavoro per la Stark Industry No, no, sono passato l'Enel L'energia Ho fatto i soldi, ho fatto Ma lei ha fatto i soldi, brutta merda Sì, sì, sì Ascoltami Eh, ma adesso posso trovarti magari insieme ad Iron Man Quello ti porta la bolletta gigante Ascoltami bene Sì, la bolletta, quella da 3.600 euro O la paghi subito O se no la possiamo finanziare con la Stark Industry Finanziamento Devo vendere 4-5 macchie No, tranquillo, risolviamo tutto Adesso io ti passo Dr. Strange Ma chi è che è? Sì, non hai preso 30 No, Dr. Strange Che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta Ma che? Ma hai il finanziamento per la bolletta? Sì, così a me lo paghi 20 euro al mese Sì, per 18 anni Ma, 18 anni Come andrà a finire? Povero Vendere e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spana Merda? Prossimamente, nello Zob 105 Erano collegati con lo studio di Miami quando hanno chiamato Enio l'altro giorno Sono stati al telefono con lui tipo 4 ore E sentivo sto Un cane che abbagliava Pensavo fosse Zack Invece era Enio dallo studio La bestemmia ha una riga dietro l'altra Ma proprio Una mitragliatrice di bestemmie Bisognerebbe portarlo in qualche chiesa A se il panso Ma sì, a farlo culo No, poi cade Collassa la chiesa Ma sì, a farlo culo 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 Ma sì, a farlo culo